Ci sono degli evidenti segnali che in questo paese forme di omofobia e forme di odio vero e proprio nei confronti delle diversità ci fossero. Temo che il clima sia sempre più il clima che le supporta in qualche modo che le raccetta se non addirittura le sostenga e che il fatto che il nostro paese in particolare se non sotto attacco ai diritti dei bambini e delle bambine credo che sia il peggior segnale che si potesse dare.